Un saluto a tutti i nostri amici, ascoltatori e telespettatori. Siamo giunti finalmente a Fassinoro, ma questa volta non così per fare una toccata e fuga, ma per rimanerci. Abbiamo preso una fattoria molto molto figa, una fattoria western, cinematografica, musicale, artistica a 360 gradi, grazie all'Associazione Paesi Uniti della Sabina. E stiamo cercando di allargare un po' le nostre conoscenze, ma soprattutto di far venire qui tutti i nostri amici. Amici che vengono da tutte le parti del mondo, un'associazione che cerca di mettere insieme realtà diverse per fare scambi culturali, per creare degli eventi, ma soprattutto per creare delle situazioni cinematografiche importanti. Sappiamo che il nostro carissimo amico Virgin, Leon in questo caso, ha creato un film e noi proprio quello andiamo a promuovere in questo istante. Dicci un po' di questo tuo progetto. Prima di tutto buonasera, ti ringrazio tanto per l'invito, grande Emanuela Petroni, perché ti dico la verità, quando mi hai fatto l'invito ero curioso, perché ogni volta che mi fai inviti sono curioso dove, lo so che fai delle belle cose. Ti ringrazio di cuore per tutte le volte che mi hai invitato, sono centinaia di volte che vengo, sono due o tre anni, che vengo sempre per fare trasmissioni da te, per fare culturale, per fare inviti e tutto quanto, e ti dico la verità, tu mi hai dato una spinta a me, con la tua radio, mi hai dato un coraggio tre anni fa per partire con i miei progetti. Sì, è vero che adesso ho finito da una settimana un film che ho girato Tramontalto di Castro, Pescia Romana in Belle Zone, un film molto bellissimo, un film con La Legione, un film con Camora, dove ho avuto il mio film onore di averlo pure per grande attore al mondo, Conte Giuseppe Caccella, un grande pittore, un attore che ha fatto film con Gabriele Garco, Onore e Rispetto, che ha fatto diversi film importanti, e ho girato questo film perché, ho detto perché altri, io no, sono giovane, ho coraggio dentro di me, ho trovato persone, i miei film giusti, che ogni uno ci ha fatto proprio il suo role, uomo, come si dice, uomo, un posto giusto. Sono stati molto pressanti questi giorni di girare, che io sono stato attore principale, pure ho girato in mare, in boschi, nelle cascade, dei combattimenti, ho dovuto prepararci ogni uno attore per fare questi combattimenti, queste scene, però è andato un buon fine. Adesso si sta a preparare il film, ci abbiamo pure un trailer, un bellissimo trailer, che è in canale nazionale della Romania, che adesso lo promuoviamo pure nella vostra radio, importante, che questa radio vostra, vi dico, lo conosce già pure la Romania, perché ho fatto vedere in tv nazionale che voi state a promuovare, e vi ringrazio in nome del mio popolo Romania, anche che sono ambassadore del folklore della Romania, e vi ringrazio di cuore Emanuele Petroni perché ogni tanto ne fa inviti e ne fa promuovere il nostro paese, la nostra cultura, a parte dei film, però ne ha fatto promuovere centinaia di volte le nostre tradizioni, i nostri canti, i nostri balli rumeni, che è importante che qualcuno qui in Italia ci pensa pure da noi rumeni, che ancora abbiamo le tradizioni con noi, i costumi tradizionali che le promuoviamo. E altra cosa vorrei, come che adesso ho visto che stai aprendo una bellissima cosa, che pochi ci hanno questo coraggio, che lo so che significa, primo spettacolo, quando sarai pronta, volevamo venire con i miei ragazzi di mia associazione culturale, Romania-Italia, per portarci un bellissimo spettacolo tradizionale, però in costume tradizionali, qui da voi. Vengo din cuore cu mare piacere perché mi fa un grande onore quando tu mi invitai in tua transmisione. E questa transmisione, secondo me, avrà un grande succeso, però con anni. Perché la strada, ho visto pure un'actorie, no? Già ho participato in due filme fin adesso, ho pensato faremi un film, ho visto. Per arrivaci, in una strada giusta, per un sonio, per arrivaci in tot sonio, ci è di lavorare, ma anni. Però non bisogna mai rendere e mai dare dietro, sempre a combattere. E piano piano, vorrei fare parte pure, vorrei fare qualche film, voi fare qualche film, io e mei ragazzi che sono experte in arti marziale, in filme, che vorrei portarci, vorrei portarci, sa-i ai bisogno di noi, con mare piacere, farò parte in tot film, va bene? Ti ingrazie di ancora per tu invito, e vorrei salutare un grande personaggio, che è esenza di lui, non si può fare trasmissioni, Pasquale, lo ingraziamo di ancora, perché è un grandissimo personaggio, vorrei ringraziare Paul, perché pure lui è nostro fratello, vorrei ringraziare pure la tigre, che mi manca, che sempre con lui abbiamo fatto belle trasmissioni, e ringraziamo la Dio, che sappiamo la salute, e ci vediamo, e ci diamo mano con mano, quella è la più importante cosa del mondo. Grazie di ancora, signora, e ti auguro un bel futuro, e vorrei vederti di nuovo a media 6 su canale 5, perché quando ti vedo là, ti giuro, stavo guardando tv, Emanuela Petroni di nuovo là, vorrei vedertela, ok, grazie mille, e quando uscirà film, lo metteremo su pagina di Facebook, così lo vedono tutta la gente, però in quel film, vi giuro, ho dato il cuore, ho stato attore principale, e ho fatto legione, ho combattuto con la camora, ho sparato, ho ammazzato in quel film, un film, per liberarmi la fila, perché mi hanno preso stati, chiedendomi 10 milioni di euro, poi lo vedete il film, non posso dire tante cose, perché tra un po' esce. Grazie di ancora. Grazie a te, carissimo. Siamo in un luogo incantevole, nel Lazio, e nella provincia di Rieti, a Fassinoro. Qui inizieremo una serie televisiva, cinematografica, che porterà naturalmente attori famosi e registi importantissimi a livello nazionale ed internazionale. Abbiamo iniziato oggi ad accogliere attori che vengono un po' da tutte le parti del mondo. Oggi loro sono venuti da Roma, realmente, però sono originari della Romania. Abbiamo avuto l'occasione di incontrare Virgi in tanto tempo fa, e per me è stato un onore conoscerlo insieme alla moglie e delle persone eccezionali. Oggi, con la troupe cinematografica, con parte della troupe cinematografica, sono venuti qui a trovarci, in questo bellissimo casale in pietra, che realmente è una fattoria western cinematografica dell'arte e della musica, che grazie all'Associazione Paesi Uniti della Sabina sta iniziando a vivere nei meandri dell'arte. E abbiamo qui accanto una delle attrici, anzi l'attrice protagonista, delle varie attività cinematografiche di Virgi. Buonasera, Emanuella, Prima di tutto sono molto lieta di aver accettato il tuo invito. Ti ringrazio. Il mio nome è Tatiana e come attrice sto interpretando il ruolo principale e la moglie del don Genaro. Del boss. Del boss, che io praticamente sono donna Carmela. sono felice in tutto, per me è una bellissima esperienza e me la voglio godere fino alla fine. Grazie. Ma grazie a te, grazie a Virgine, a tutta questa bellissima troupe di artisti. Siamo lieti davvero di accogliervi anche nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, per realizzare delle scene importanti della vostra, diciamo, attività. Vi ringrazio ancora e al prossimo artista. Grazie, grazie a voi. Intervistiamo adesso un altro attore della troupe cinematografica di Leon, nel nostro amico Virgine. È molto importante poter comunicare con voi, ma soprattutto far sì che i nostri amici, ascoltatori e telespettatori passano a conoscervi, considerando che noi trasmettiamo in 196 paesi del mondo, attraverso le comunità italiane e l'estero. Quindi è bello poter promuovere non solo i paesi della Sabina, non solo il territorio e tutte le caratteristiche enogastronomiche e le bellezze, ma anche i talenti. I talenti che capinano in questo bellissimo borgo chiamato Fassinoro. Piacere, Giuliano. Sono capitato qui oggi casualmente ospite di Virgil. Ho avuto il piacere di conoscere anche Manuela. Si dice che il fato sorride agli audaci in questa stupenda location a cui auguro un buon corso come riprese, come ospitalità, come eventi artistici e culturali, a quanto pare comparirò in un futuro film con Virgil, cui ho piacere di partecipare e che ringrazio anticipatamente della fiducia. È bellissimo tutto questo perché Virgil dà modo agli artisti di credere ancora di più in se stessi, ma soprattutto di creare qualcosa di unico, è qualcosa che testimonia la bellezza del momento che vivete attraverso appunto telecamere, attraverso l'atto proprio attoriale con più attori. È bellissimo, complimenti. Grazie gentilissima e speriamo in un buon successo. Grazie ancora a voi. Abbiamo intervistato vari attori, artisti provenienti da varie parti del mondo e adesso andiamo ad intervistare un attore teatrale che però in questo istante, in questo momento della sua vita, fa anche l'attore di cinema e ci dice adesso da dove viene. Buonasera e grazie Emanuela per l'invito e grazie a Virgil Asoltani, reggito del film Leone. C'è un tanto piacere che sono qui presente a voi. Io vengo vicino a Buccarest, a un paesino a 110 chilometri verso Trasilvania. Faccio parte del film Leone come legionario e c'è un tanto piacere per questo invito e per questo ruolo che Virgil mi ha accordato nel casting e mi sono trovato molto bene vicino a loro e i colleghi dei film e altri attori. Io faccio l'attore anche, diciamo, del teatro, faccio combattimento, sono sportiva, dei king box, sono sportivo che faccio king box e quindi c'è tanto piacere e sono molto onorato di questo film che Virgil mi ha fatto fare come attore e spero che avrà un grande successo e che lo portiamo molto, molto, molto più lontano e che avrà un grande successo. Veramente, ha fatto molto piacere incontrarvi, poter magari anche in futuro insieme a Virgil poter collaborare in tante belle cose. Complimenti. Grazie e sicuramente avrà un grande successo. Grazie ancora. È venuta qui a trovarci la troupe cinematografica di Virgin. Leon, un grandissimo artista, attore, regista, atleta, perché anche un combattente, ha portato qui artisti fighissimi e abbiamo qui non solo un'attrice, ma anche una cantante fenomenale. Grazie, Manuela, buonasera. Quando vengo qui da te, sempre posti più meravigliosi, più belli, sono proprio contentissima. E io non è che sono solo un troupe del film di Leo, sono pure la mole di Leo. che ha fatto un bel ruolo, diciamo, che la mia figlia è stata repita e invece io sono stata legata. E poi alla fine, piano piano, abbiamo trovato la mia figlia, anche il mio marito, e abbiamo trovato la famiglia in questo film. Sono proprio contentissima e hanno fatto tante scene bellissime, i combattimenti, le cose molto, molto belli. Questo film, io sono proprio sicura che arriverà con grande successo e sono proprio contenta che faccio pure l'attrice, non solo la cantante. E come vedi, sono proprio contenta che sono arrivata pure oggi qui da te, in posti bellissimi, qui che vuoi fare le cose belli, come lo sai tu a farli, con cantanti, con le cose, così e così. Io parteciperò, io non mancherò. Sì, tra un po' arriveranno anche altri musicisti e altre persone dopo le 18 su Pergiù. Però oggi, nel frattempo, abbiamo iniziato con voi, abbiamo assaggiato, toccato con mano proprio la bellezza di questo luogo. È incantevole, sembra di essere all'interno veramente di un film antico e è bello condividerlo con voi. Sicuramente io facerò parte, so per prima che vengo da te a fare per prima questa parte del film tuo che inizierai, come mi hai parlato, sicuramente vengo che sono posti molto belli, molto carini e tu lo sai fare belle le cose. Io sono proprio contenta quando ti incontro perché lo so dove vai e che fai sempre le cose belle. Io sono proprio contenta. Ti ringrazio, ti invito di tutto quello che fai anche per romeni e anche per italiani perché tu fai le cose belle anche per italiani per venire, per cantare, per fare bisogni da te e tutte le cose belle e carine. Sei meraviglioso. Ti mando un bacino. Grazie, grazie cara, ti voglio bene. Leo, ha, 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 che spero. Ciao. 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 Vaglio, io da me qui sto disgraziato.